nipotini belli guardiamoci questo fit check impressionante della nostra greta rossetti con questo completino giallo poi arriva quello blu perché poi ci sono per l'abattiero e antonella fiordelisi le nostre chip e chop di oggi si passano giornate insieme e sono buffissime fanno morire dalle risate stasera sono in piscina la piscina è ghiacciata antonella non riesce a entrare così ci sono delle scenette esilaranti allora lasciamo greta con i suoi completini antonella ce l'ha uguale eccoli qua ciao raga questa è la cosa più brutta da fare spa sauna e acqua ghiacciata fa benissimo per la circolazione però io non ce la faccio mai a farlo però ci proviamo eh ma io già sto in tu già stai morendo con i piedi si amore amore bella carina la dolce la dolce una Grazie a tutti.